Da tempo il Comune di Mercogliano ha deciso di consegnare riconoscimenti ai figli della cittadina, alle falde del Partegno, che pur avendo lasciato la propria terra d'origine per andare a lavorare altrove, mantengono ben saldo il ligame con le proprie radici. Questa mattina, nell'Aula Consigliare alla presenza di tanti ex amministratori, è stato consegnato un riconoscimento alla dottoressa Carmen Criscitiello, affermata moncologa, che lavora a Milano. Per me è veramente un'emozione essere arrivata qua stamattina, vedere tante persone che comunque hanno accompagnato la mia infanzia, quindi tanti ricordi ed è veramente un onore ricevere questo riconoscimento, anche perché poi uno non si aspetta facendo il proprio lavoro di ricevere riconoscimenti del genere dal proprio paese d'origine. Tra i più emozionati è sicuramente Alessandro Criscitiello, ex sindaco di Mercogliano e padre di Carmen. Carmen Criscitiello, che ha un incarico di alta specializzazione presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, è stata premiata per il suo impegno in campo medico, è un'affermata ricercatrice, con esperienze in università europee e negli Stati Uniti, 155 pubblicazioni scientifiche all'attivo e ora guiderà un'importante sperimentazione. Io sono finita a Milano per giri della vita, diciamo, inizialmente mi immaginavo in Campania. Ci tengo a dire che comunque, nonostante tante persone, me compresa, lavorino fuori dalla Campania, la Campania ha tante eccellenze da un punto di vista sanitario, quindi anche molte persone che sono seguite qui per le loro problematiche cliniche devono sapere che, insomma, non solo al nord ci sono strutture di pregio e di rilevo, ma anche al sud ci sono tantissimi bravi medici, molti dei quali hanno la mia stima incondizionata, a volte purtroppo sono più le strutture che hanno qualche pecca. Grazie. Grazie.